Come è la delibera del 31 dicembre 2011? Ci scadono queste convenzioni e nell'audizione che abbiamo fatto questa mattina con il sindaco emiliano si è stabilito di tentare di trovare un percorso nuovo per come finanziare le attività non solo di queste strutture ma di tutti gli operatori culturali della città. Tanti si sentono esclusi da questa... Benissimo, in tanti si sentono esclusi, infatti noi ci vogliamo far carico di quelli che sono già dentro e di quelli che sono esclusi. Stiamo cercando tra il Teatro Petruzzelli e il Teatro Piccini quando andrà a regime, insomma questo bel gioiellino che è di proprietà comunale. Ottobre 2014, sperando che i tempi vengano rispettati. Sperando appunto che i tempi vengano rispettati, pensiamo di poter aiutare tutti questi operatori garantendo loro la fruibilità gratuita per i propri spettacoli. E quindi consentire loro di poter sbigliettare in contenitori che hanno il Piccini avrà 800 posti, il Petruzzelli una base di 1200-1300 posti. Lasciando a loro il ricavo delle vendite dello spettacolo? Lasciando a loro il ricavo delle vendite dello spettacolo, come è giusto che sia. Ma cosa più interessante, in quel caso si vedrà chi regge il mercato e chi non regge. Perché se uno spettacolo incassa vuol dire che piace. Se uno spettacolo non incassa va da sé che insomma non... Quindi finisce un po' la pacchia a chi eventualmente finora ne ha fatti qualcuno, poche repliche, questa era un po' la polemica e comunque aveva una certa cifra per la convenzione. No, io la metterei sotto un altro punto di vista. Finisce forse la pacchia degli assessori alla cultura che si erigevano a direttori artistici. E come sarà la stagione prossima della quale avete, seppure parlato, quello che ci può dire? Sono convinto che sarà una stagione di successo. Qualche nome? No, è previsto Massimo Ranieri, è previsto Tony e Peppe Servillo, è previsto Silvio Orlando, insomma Rosario Ferrello. Quindi nomi importanti, nonostante la crisi riusciamo in qualche modo a portarli a Bari. La crisi va aggredita e quindi questa è una stagione aggressiva e che appunto sta tentando di rapire il pubblico. Ok. Grazie a tutti.